Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola La Nostra Rassegna Stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, giovedì 18 marzo 2021. È sempre la pandemia ad occupare le prime pagine dei giornali, sia con la celebrazione oggi della prima giornata nazionale dedicata alle vittime del contagio, ma anche alla decisione dell'EMA tra qualche ora su AstraZeneca, sul vaccino AstraZeneca. Intanto sempre dall'Europa viene ribadita la necessità di creare un passaporto per chi è guarito dal Covid e per chi invece ha fatto anche il vaccino. Questi sono gli argomenti che ritroviamo sui giornali, ma c'è tanto altro e allora andiamo sul Corriere della Sera che titola «È il giorno della verità su AstraZeneca, scuole aperte d'estate per chi vuole». Leggiamo il richiamo. È attesa per oggi la decisione dell'Agenzia Europea per i medicinali e su AstraZeneca. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo l'EMA, ribadisce che i benefici del vaccino anglo-svedese superano i rischi e raccomanda di continuare le iniezioni. Novità in arrivo per le scuole al Ministero dell'Istruzione e lavorano ad un piano per l'estate. Laboratori volontari e niente voti negli istituti aperti fino ad agosto. E poi la Commissaria dell'Unione Europea che dice «Così combatteremo le esitazioni sui vaccini. Sui vaccini a decidere sarà la scienza. Mandiamo il messaggio corretto per combattere ogni esitazione». La Chiriachides, Commissaria per l'Unione Europea alla Salute, sostiene la necessità di creare fiducia per le immunizzazioni. E poi la campagna «No all'iniezione» finisce in coda. Per affronteggiare le probabili defezioni dopo il caso AstraZeneca si adotterà una sorta di overbooking, cioè verranno chiamate più persone rispetto al previsto e chi rinuncerà al vaccino scivolerà in coda alla lista. E come dicevamo non c'è soltanto la vicenda Covid a tenere banco, ma anche una nuova crisi internazionale, la sfida di Biden a Putin. Lui un assassino? Sì, lo penso, è quello che ha detto il Presidente degli Stati Uniti. La Russia richiama l'ambasciatore, quindi tensione altissima. Crisi diplomatica per una intervista pagherà per le interferenze sul voto. Ancora è Biden a parlare. Leggiamo Massimo Gaggi. Alta la tensione tra Stati Uniti e Russia. Biden attacca il leader del Cremlino rispondendo affermativamente a una domanda. Putin è un killer? Sì, lo penso. Ha aperto una crisi diplomatica immediata alla risposta di Mosca che ha richiamato l'ambasciatore. Biden usa un linguaggio che la gente capisce per il politolico Jan Bremer. Ma c'è anche un'altra vicenda internazionale nella quale è coinvolta l'Italia con la decisione del Tribunale di Milano. Eni tutti assolti per il caso Nigeria. Il fatto non sussiste. Vittoria di Descalzi e Scaroni. Leggiamo anche qui Luigi Ferrarella. Eni e Shell assolti perché il fatto non sussiste. Claudio Descalzi, Paolo Scaroni e tutti gli altri 11 imputati tra amministratori e intermediari a giudizio per il caso di presunte tangenti alla Nigeria. Così la sentenza di primo grado del processo milanese sull'acquisto nel 2011 della licenza petrolifera marittima. Il prezzo pagato ufficialmente al governo nigeriano era ritenuto dai PM la più grande tangente mai versata a politici e burocrati stranieri. Ma il collegio preseduto dal giudice Tremolada ha valutato infondate le accuse. E poi c'è anche un fatto di cronaca. Gli spari e la morte nei centri massaggi negli Stati Uniti, in particolare ad Atlanta, uccise otto persone. Ma torniamo alle vicende del Covid con la Repubblica che titola vaccinazioni si riparte ma ora più controlli. L'EMA verso il SIA da AstraZeneca spunta l'ipotesi di paletti su possibili effetti collaterali per alcune categorie. Scontro tra Vonterlein e Boris Johnson. La Commissione europea lancia il certificato verde per tornare a viaggiare. Oggi Draghi a Bergamo. vi siete rialzati. Lo farà anche l'Italia. Verso il SIA dell'Agenzia europea per i medicinali ad AstraZeneca. Ricominciano le vaccinazioni. Oggi Draghi sarà a Bergamo per la giornata in memoria delle vittime della Covid. E poi le interviste di Repubblica Bersani. Caroletta nel Partito Democratico non torno. Creiamo una nuova casa. Altra intervista al Ministro Carfagna. Sud basta assistenzialismo. Ce la possiamo fare. E poi il commento. Gli errori di Ursula e quelli degli altri. E Carlo Cottarelli a scrivere le accuse all'Europa sulla questione dei vaccini. Si sono intensificate nelle ultime settimane di fronte ai più rapidi progressi registrati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele. E poi il racconto. Foto di gruppo condolore di Paolo di Paolo. La verità è che di loro abbiamo parlato troppo poco. E la verità è che non è facile. Bisognerebbe moltiplicare per 5, forse 10, quel numero, 100.000, per avere una stima del paesaggio del lutto. Quasi una regione intera fatta di gente che in questo anno ha perso qualcuno a causa del Covid. E poi vedete a centropagina la fotografia dell'incontro nel marzo del 2011 tra il primo ministro Putin e l'allora vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi presidente. Biden, Putin è un killer, Mosca pagherete l'insulto. Insomma, tensione sempre altissima fra le due superpotenze. E poi la sentenza Eni Nigeria. 8 anni di indagini, tutti assolti. E passiamo alla stampa. Il quotidiano di Torino che titola Draghi schiera i farmacisti potranno fare i vaccini. Oggi l'EMA decide sul farmaco anglo-svedese. La Sardegna vieta l'ingresso ai non residenti. Intanto il premier Draghi e von der Leyen avvertono Londra pronti a bloccare l'export. Il premier Draghi accelera sui vaccini. Il ministro Speranza annuncia studiamo una modifica normativa che consenta ai farmacisti di somministrare le dosi dopo un breve corso. E poi vedete questa fotografia drammatica che ha fatto il giro del mondo lo scorso anno. Bergamo un anno dopo quelle file di camion che ci costrinsero a guardare in faccia il virus. Vedete la fotografia parla e racconta della fila di camion militari che portava via le bare da Bergamo perché non c'erano più posti nei cimiteri locali. E oggi c'è la commemorazione con la presenza della premier proprio Draghi. E poi la parte internazionale con Biden che attacca a Putin. Killer senza anima Mosca relazioni in un vicolo cieco. E poi l'America il vero rivale e la Cina di Xi l'ira dello zar nel suo bunker. E poi anche un'analisi un approfondimento sulla vicenda AstraZeneca. La trappola di AstraZeneca titola Giovanni Orsina. Leggiamo. Lo sconcertante caso AstraZeneca mostra quanto profonda sia la crisi della politica democratica in generale di quella europea in particolare. Per colmo di paradosso è una crisi che non viene dai difetti della democrazia ma dai suoi pregi. Il che rende difficile non soltanto affrontarla ma perfino parlarne. Se vogliamo sperare di risolverla tuttavia dovremo pur tentare di metterla a fuoco. I paesi europei sono stati costretti a bloccare il vaccino da una qualità irrinunciabile della democrazia la trasparenza. Le informazioni circolano in qualità enormi e crescenti senza filtri in tempo reale. Entro i confini dell'Unione poi il pluralismo istituzionale rende il flusso informativo ancora più rapido e incontrollato fra stati nazionali, autorità sanitarie, regioni, commissioni, agenzie europee per i medicinali. Un marchigegno così complesso e decentrato che qualsiasi cosa accada in un suo punto non può che salire istantaneamente alla luce e condizionare l'intero sistema. E passiamo all'avvenire il quotidiano dei vescovi italiani che titola il Papa mi inginocchio per la pace in Myanmar. Lucia Capuzzi scrive e proviamo a leggere anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Papa Francesco ha alzato lo sguardo dal foglio mentre con la mano ha indicato il proprio petto. Anche io stendo le mie braccia e dico prevalga il dialogo. Ha sottolineato scandendo la parola dopo parola al termine dell'udienza generale del mercoledì. Poi scotendo la testa ha aggiunto il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. Il corpo e la voce del pontefice si sono fusi in una supplica. E poi la vicenda americana. Il presidente Biden attacca sulle interferenze nelle elezioni a Mosca e richiama l'ambasciatore da Francesco a curato appello contro la violenza. Biden, Putin, assassino, guerra fredda usa Russia. Elena Molinari. Sleep Joy si è svegliato. Male, sorprende ancora e smettendo le previsioni di un approccio di contenimento nei confronti di Russia e Cina passa all'attacco ai primi minuti di gioco forzando la mano dei due principali rivali di Washington. Vladimir Putin è un assassino senza anima che pagherà caro l'aver interferito nelle elezioni. I rapporti con Mosca non saranno più gli stessi degli ultimi quattro anni e Pechino è avvertita sul fronte dei diritti umani. E poi vedete la proposta dell'Europa. Un pass per tornare a viaggiare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha molti più benefici che rischi per AstraZeneca si prospetta il via libera. Un ruolo maggiore nelle vaccinazioni a farmacie e infermieri. Balzo dei ricoveri. Oggi Draghi a Bergamo. Leggiamo. Il vaccino di AstraZeneca è sicuro e lema oggi lo confermerà anche se con l'ipotesi di un limite per le donne che assumano la pillola e per i cardiopatici. Ma la società è scorretta e non rispetta gli impegni e basta con le esportazioni dell'Unione Europea di vaccini se non c'è reciprocità. Ursula von der Leyen si sfoga durante la presentazione del certificato verde digitale che nelle intenzioni di Bruxelles dovrebbe garantire un ritorno alla normalità negli spostamenti almeno per l'estate. Ieri intanto si è fatta sentire anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomanda di continuare con le vaccinazioni visto che i benefici superano i rischi. Intanto mentre la campagna vaccinale procede a rilento a causa del blocco e le regioni riorganizzano le somministrazioni con Pfizer il commissario all'emergenza Figliuolo fa sapere che lo stop al vaccino di Oxford se fosse revocato potrebbe essere riassorbito nel giro di due settimane. In campo presto anche i farmacisti la curva dei contagi resta stabile a quota 23.000 tasso di positività al 6,2% ma è boom di ricoveri, 324 gli ingressi in terapia intensiva in un solo giorno, 431 le vittime. Lombardia, Campania ed Emilia Romagna restano le regioni più colpite del paese. Intanto sono stati assolti i manager di Eni, non ci fu correzione internazionale in Nigeria e questa è la sentenza di primo grado. Leggiamo anche un passaggio dell'editoriale. Cina al bivio di Myanmar, il golpe subito obbliga a scegliere. Pio d'Emilia scrive giorni delicati per la politica estera cinese all'indomani del primo vertice sia pure online del Quad, la cosiddetta Nato orientale, che venerdì scorso ha visto per la prima volta riuniti i leader di Stati Uniti, Giappone, Australia, India ma non della Corea del Sud. Impergnarsi formalmente a contenere il crescente espansionismo cinese e alla vigilia del primo incontro ufficiale con la nuova amministrazione americana, in programma oggi in Alaska, che vedrà i ministri degli esteri della difesa di Washington e Pechino impegnati a trovare un nuovo linguaggio comune. Ma quello che più preoccupa la Cina in questi giorni è quanto sta succedendo in Birmania. Mantenere la tradizionale politica di non interferenza e appoggiare di fatto l'esercito che spara sulla popolazione civile e rischiare miliardi di investimenti o allinearsi per una volta con quasi tutto il resto del mondo chiedendo il ritorno della democrazia e salvare miliardi di investimenti? Queste sono le domande che si pone anche il quotidiano dei Vescovi italiani. E passiamo al sole 24 ore il giornale di Confindustria che titola Powell della Federal Reserve. Tassi fermi fino al 2024. L'economia americana mette il turbo e si propone di guidare la ripresa internazionale. Leggiamo. L'economia statunitense crescerà quest'anno del 6,5 per cento e la previsione della Federal Reserve che ha rivisto il più 4,2 stimato in precedenza. Una accelerazione notevole che traina la ripresa mondiale, ha detto il Presidente della Fed Jerome Powell nella conferenza stampa seguita alla riunione del Comitato per la politica monetaria. Nonostante ciò la Fed ritiene che le pressioni sui prezzi saranno solo transitorie e dunque non si gestifica un aumento dei tassi di interesse che non aumenteranno prima del 2024. Una buona notizia per l'economia mondiale. E poi decreto legge sostegni. Cinque fasce per gli aiuti. Leggiamo. Domani arriva finalmente in Consiglio dei Ministri la manovra che servirà a dare un po' d'aiuto a imprese e famiglie che stanno boccheggiando per colpa della pandemia. Ieri vertice di maggioranza con Mario Draghi che ha dato via il via libera al decreto legge sostegni che arriverà domani in Consiglio dei Ministri. Confermato lo stralcio delle vecchie cartelle in evase relative al periodo 2000-2015 con tetto fermo almeno per ora a 5.000 euro. Gli aiuti alle attività che hanno subito una perdita di fatturato superiore al 33% saranno organizzati in cinque fasce. Indenizi al 10% per le attività che fatturano tra 5 e 10 milioni di euro. Poi c'è anche un richiamo, un riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ENI, assolti i vertici ENI e Shell al processo tangenti in Nigeria. Claudio Descalzi, numero uno di ENI, è stato assolto nel processo per la presunta corruzione internazionale legata all'acquisizione di un blocco petrolifero in Nigeria. I giudici hanno assolto anche il suo predecessore e ora presidente del Milan, Paolo Scaroni, assolti anche i vertici di Shell e dei due gruppi. Intanto c'è il sì al mancato reintegro degli assunti con il Jobs Act. Leggiamo. Il Jobs Act non viola il diritto europeo, è il senso della sentenza della Corte europea sul caso di una società italiana che nel 2017 aveva licenziato 350 lavoratori. Il Tribunale di Milano aveva imposto il reintegro per tutti tranne uno perché la conversione del contratto a tempo indeterminato era successiva al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act, secondo cui in un licenziamento illegittimo si ha diritto solo a un'indennità. Per effetto del Jobs Act, infatti, spiega la Corte, vi sono due regimi successivi di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo illegittimo e il diritto comunitario non osta a tale normativa. passiamo ai giornali di ambito regionale, cominciando con la Gazzetta del Mezzogiorno che si occupa, come sempre, di Puglia e Basilicata. Leggiamo il titolo principale vaccini, una battaglia continua. In Puglia, 200 letti di emergenza per affrontare l'aumento dei ricoveri. Verso l'ok dell'Agenzia Europea ad AstraZeneca, ma l'Unione Europea minaccia lo stop all'export. Non c'è reciprocità. Via libera in vista per gli infermieri, i vaccinatori. e poi vedete il commento del direttore Giuseppe De Tommaso, il ripudio del rischio e del fattore probabilità. E poi i classici richiami, la pandemia, la vita e l'undici di picche. E poi, giovani o anziani, l'età per la politica. E parte anche la nuova rubrica della Gazzetta, scrivete al difensore cittadino. Ancora, Bari per gli alunni fragili, didattica a distanza. Impossibile la denuncia delle famiglie. E ancora in arrivo, fondi al sud, investimenti possibili, 600 milioni alle zone economiche speciali. L'annuncio del ministro Carfagna. E allora proviamo a leggere. L'annuncio del ministro per il sud, Mara Carfagna, pronti 600 milioni di euro per le zone economiche speciali, rilancia le speranze di impulso anche all'imprenditoria dell'area ionico lucana. Non solo i soldi destinate ad assicurare per queste aree e di tutte le altre del sud, in Calabria, Campania e Abruzzo, opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria e di connessione alla rete stradale e ferroviaria, ma anche la volontà di mettere mano ad una modifica della normativa in vigore, rimettono in pista progetti e programmi di nuove localizzazioni industriali e di nuovi posti di lavoro. E passiamo al messaggero, il giornale della Capitale, che titola AstraZeneca ancora defezioni, EMA verso lo sblocco. L'azienda, 90 milioni di fiale in meno, dubbi, AIFA sul siero. E ancora, guarigioni al 75%, la scommessa delle monoclonali, prese 150 mila dosi. Via libera da ieri in Italia gli anticorpi monoclonali, il farmaco che consente di guarire tre pazienti su quattro. Una buona notizia dalla fronte della scienza. E ancora, lockdown al mare, stretta della Sardegna, da Roma a Milano, fuga sulle isole e l'Unione Europea che avverte un pass vaccinale salva turismo. E poi il titolo principale. Cambiamo il patto di stabilità. L'intervista al ministro dell'economia francese Le Maire. Regole diverse per il bilancio dell'Unione Europea. Oggi incontrerà Franco, Giorgetti e Colau. Dall'idrogeno alla tecnologia, uniti per lo sviluppo. E poi il caso è in Nigeria, soluzione per tutti. Non ci furono tangenti. E poi le accuse Biden contro Putin e gli interessi libici, dando così anche una interpretazione di questa improvvisa accelerazione della crisi dei rapporti tra Stati Uniti e Russia. E passiamo al mattino il giornale della Campania, che ancora ribadisce lo scontro in Europa, la guerra di AstraZeneca. La von der Leyen accusa inaffidabili. Mancano 90 milioni di dose. E sull'export sfida Londra. Lema, intanto, verso il Via Libera al Siero dopo i sospetti sulle morti post-vaccino. Dubbi su chi usa la pillola. E ancora l'analisi. La politica del governo delle paure. E un anno dopo, monito delle bare in corteo. E leggiamo anche i richiami. La polemica. Tamponi e visite a casa. I medici di base. Del no. E ancora il maxiacquisto del governo. Ecco le monoclonali. Igualiti tre malati su quattro. E ancora flaconi scongelati. Attenzione alla luce. La conservazione e l'efficacia dei sieri. E sono questi i titoli principali del mattino. Passiamo al giornale del Sud. Il quotidiano del Sud. L'altra voce dell'Italia. Il giornale che si occupa della Calabria. Attenti a segare il ramo su cui si è seduti. La carta estrema di Draghi. La nuova guerra fredda e i soliti giochetti italiani. È partito il tiro italiano al piccione di quel mondo privilegiato dell'irrealtà che guarda il suo ombelico e non sente ciò che ruota intorno ad esso. Il punto è come se come sistema paese attui un processo di delegittimazione della carta estrema che hai. È come segare il ramo dell'albero su cui si è seduti. Anche perché Draghi ha idee chiare e compie scelte nette. Queste cose ben precise però vanno precisamente comunicate. Bisogna dire qualche parola in più. E la deve dire il Presidente del Consiglio. Perché in situazioni simili il vuoto viene riempito. Se non si comunica lui e se non comunica lui comunica qualcun altro. Leggiamo allora un passaggio di questo editoriale del direttore Roberto Napoletano. Bisogna stare attenti a evitare il solito tiro italiano al piccione di turno. In questo siamo insuperabili. Non ci fermiamo davanti a nessuno o davanti a nulla. Non abbiamo vergogna. Il punto di oggi è che se come sistema paese attui un processo di delegittimazione della carta estrema che hai rischi l'implosione. Se lo fai a ogni ora del giorno pensando che puoi continuare a fare come se nulla fosse le solite speculazioni politiche e il solito mercimonio di miserevoli interessi vuol dire che non hai la benché minima consapevolezza del momento che il Paese estremato sta vivendo. Altrimenti capiresti da solo che mettersi a fare i giochetti sopra e sotto il tavolo con la carta Draghi messa in campo dal capo dello Stato Mattarella è come segare il ramo dell'albero su cui si è seduto. Perché stiamo parlando dell'uomo più autorevole che l'Italia può spendere nel mondo e un suo fallimento significherebbe agli occhi di chi ci osserva da vicino e da lontano che l'Italia è insalvabile. Se tutto ciò avviene come avviene dopo appena qualche settimana di governo Draghi, trascurando alla grande il fatto che una regola rigida di limitazione della comunicazione è benemerita perché serve a pulire l'aria dall'inquinamento velinaro dei mesi precedenti, vuol dire che si sopravvive in quel mondo privilegiato dell'irrealtà che guarda il suo ombelico e non sente né capisce alcunché di ciò che ruota intorno ad esso. A maggior ragione si avviene come avviene che Draghi ha le idee molto chiare e compie scelte molto nette. Il comitato tecnico scientifico che passa da 26 a 12 membri in questo numero così brutalmente ristretto statistici e matematici affiancano i virologi significa una cosa ben precisa. Il generale Figliuolo alla testa della macchina per l'emergenza significa una cosa ben precisa. Il cambio della guardia alla guida della protezione civile significa una cosa ben precisa. 5 miliardi per il piano vaccini contro i 400 milioni del conte 2 e l'avvio della produzione nazionale significano una cosa ben precisa e poi via via il resto dell'editoriale. Se Biden è peggio di Trump, la nuova guerra fredda è l'ultimo titolo del quale ci occupiamo in questa rassegna stampa. L'appuntamento è per domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi. Grazie a tutti.